Quinta corsa di Palermo, un'ultima occhiata, resta sostanzialmente invariata la quota di Newcastle come favorito 3-0-2, 3-56 per il contro Milagro, 4-71 per il 3 Rombo di Tuono. Quinta corsa di Palermo, anziani di categoria D sul doppio chilometro, in otto al via, favori al gioco per il numero 6 Newcastle che dà l'impressione di voler subito mettere un'importante ipoteca sulla gara cogliendo un ottimo lancio, lancio che lo porta a scavalcare Pusdei Trebbe in terza posizione Rombo di Tuono e tutto sommato la fase iniziale si sta svolgendo come un po'. Era prevedibile anche se non scontato, ovvero Newcastle davanti, adesso però Rombo di Tuono lascia il terzo posto in corda, non abbiamo compreso francamente quale sia l'utilità in questo momento perché non crediamo che Newcastle possa mandare via, infatti Antonino Porzio comprende che non era proprio il caso di andare a chiedere strada e frettolosamente rientra con, devo dire, anche molta tempestività, terzo in corda, poi in quarta posizione rifa OM che precede Milagro. E si va così lungo la seconda curva, circa 700 metri di gara percorsi con Newcastle in avanti, ha chiuso favorito poi a 2,99, parla di Trebbe di rincalzo, Rombo di Tuono in terza posizione, rifa OM resta ovviamente a steccato e naturalmente non può che essere Milagro il cavallo che deve provare ad andare a fare andatura, seguito da un molto insidioso rispetto OP. Andiamo a vedere questo primo chilometro di Newcastle, chilometro tutto sommato 15,6, normale per la categoria e adesso Milagro prova a far svertire il passo al capofila, dietro il quale Puzzleteb dà l'impressione di avere difficoltà già adesso a seguire l'andatura, vediamo un po', è proprio così, i due davanti hanno preso vantaggio, vediamo un po' questi 400 metri dal chilometro se c'è stato un'impennata del ritmo che giustifica il 1,40, e beh, sotto 29 questi 400 metri quindi si sta andando davvero forte e guardate un po', è il milagro dei tempi d'oro, mette sotto pressione Newcastle con Parzialoni e alla fine lo scavalca quando ancora mancano circa 300 metri al traguardo più indietro Puzzletreba ha alzato bandierina bianca, anche il rombo di tuono non sembra in grado di inserirsi nella vicenda ed è probabilmente una ancora molto positiva Riffa OM a farsi strada nel frattempo Milagro, un milagro che così forte non vedevamo da tanto tempo viene a vincere davvero alla grande nei confronti di Riffa OM e di rombo di tuono che alla fine probabilmente ha battuto Newcastle che stavolta ha accusato sensibilmente il calo di categoria ha fatto un numero, ha fatto un numero milagro, sul mio cronometro addirittura un tempo sul filo dell'1,14 quindi un milagro davvero eccezionale in mano a Gasparolo Verde, 3,61 la quota, i colori della Bimag SRL il training di Francesca Croce, come detto quota di 3,61, ancora incomiabile, davvero al di là di ogni attesa una splendida Riffa OM, mentre come c'era sembrato in diretta, rombo di tuono appizzicato Newcastle per la terza moneta in numeri dunque 2,1,3, l'ordine d'arrivo ancora ufficioso della quinta corsa di Palermo